Ciao, sono Maria, sono madre di famiglia, ho due figli e tra due giorni ho strato. Ho consegnato la domanda all'aria del mio 2007, ancora oggi ho quasi 3.000 persone davanti, sono al settimo invio di strato e se vuoi venire a darmi una mano, martedì alle 7, in via 32, vieni a darmi una mano, c'è la mia pausa. Partiamo intanto.